Voglio ringraziare tutti che hanno fatto questo sacrificio a partecipare nella manifestazione di oggi. Vogliamo mostrare a tutti i mondi che noi, stranieri o profughi, che è venuto da molte parti del mondo, paese del mondo, in Italia, non siamo qui per chiedere limosine. Siamo qui per avere la possibilità di lavorare e contribuire immensamente socialmente e conscientemente nelle richieste che portano più prosperità di Italia che intorno, dà anche noi la possibilità di vivere digno e testamente. Per questo diciamo che chiunque, sia italiani o stranieri, che pensano che profughi o stranieri venuti in Italia per mettere loro fuori dalla loro posizione, ho il lavoro nel paese e sto sbagliando molto. Se voi credete a me, tutti i paesi che sono grandi, che hanno sviluppato molto, che sono molto ricchi, e così questa cosa è stata messa possibile perché loro hanno lasciato la loro confina aperta per stranieri, per arricchire loro, per fare loro contributo, per lavorare e fare il paese a crescere e diventare più sviluppo. Quindi voglio dichiarare a tutti oggi, quindi voglio dichiarare a tutti oggi, che stranieri e profughi che ci sono in Italia, siamo qui per darci la nostra possibilità, la nostra abilità, mettere il nostro cosciente a lavorare, per fare l'Italia a crescere bene, essere più uniti, a diventare più sviluppo, a avere prosperità.